poi dopo vi siete spostati di location l'hai spostata con la leading quindi guidandola se non sbaglio ti aveva fatto un po' di obiezioni ti aveva detto che aveva il treno fra 20 minuti ti aveva fatto un po' di obiezioni e poi comunque quando ti si è alzato e le hai detto andiamo a parte che si è stato a convincerla se non sbaglio a dirle no dai andiamo a fare il regalo per non mi ricordo chi siccome lei era lì in un negozio che stava facendo shopping per fare un regalo tu le hai ribadito dai andiamo a cercare un regalo eccetera ma non serve quando l'intento è chiaro per mantenere l'intento chiaro non devi nascondere le tue intenzioni si chiaro le dici andiamo in questo altro posto così rimaniamo un po' più di tempo insieme non devi nasconderlo se non sbaglio ti avevo fatto l'esempio della ragazza a cui avevo fatto perdere l'autobus poi ero arrivato al bacio che praticamente l'avevo approcciata mentre stava scendendo giù in metro e praticamente stava andando benissimo mi ha risposto benissimo e ho detto cazzo cioè che peccato che sta andando adesso a prendere l'autobus per andare stasera via da Milano le ho detto appunto guarda io ho un po' di tempo libero ti accompagno fino alla stazione di autobus così rimaniamo un po' più di tempo insieme quindi che invito è? non è un invito standard che si fa per gli stand date ma comunque è un invito e non nasconde le intenzioni quindi non c'è nessun problema il problema è quando poi vuoi nascondere le tue intenzioni vai a distruggere la comunicazione uomo-donna quindi se tu sei stato coerente con una comunicazione uomo-donna per tutto il tempo e poi te ne esci nascondendo le tue intenzioni non va per niente bene ok? quindi distruggi l'attrazione in questo modo se nascondi le tue intenzioni quando sta andando così quando sta andando così bene ritornando da quando ancora erate seduti nella prima location quando sta andando così bene non devi nascondere le tue intenzioni questo l'ho già parlato prima quindi dille che vuoi stare con lei non portarla a fare il regalo non mettere location come dire che che ti rendono più difficile il portarla a casa non mettere location strane andiamo a fare il regalo alla tua amica shopping che cazzo di location è? non è una location se poi lo vuoi mettere come location intermedia come appunto quando ho portato quella ragazza a casa lì che ho spiegato anche nell'audio corso se non sbaglio che l'ho fatto l'invito avevo già fatto era il primo appuntamento avevamo fatto la location iniziale la prima location dell'appuntamento e c'era già stato un instant date con questa ragazza quindi comunque avevo già fatto un paio di location con lei in totale anche se non divise in più momenti cioè proprio in giorni diversi e prima di andare a casa le ho fatto l'invito quell'invito super complicato che l'ho detto che siccome appunto lei doveva fare più cose le ho detto guarda io vivo a tot minuti da qua andiamo lì in farmacia così ti compri quella roba lì poi andiamo a fare il regalo per tuo fratello che non mi ricordo nello specifico lei doveva fare tre cose mi ricordo che doveva comprare una cosa in farmacia doveva fare un regalo a suo fratello per un souvenir e non mi ricordo doveva comprare del cibo da riportare da portare nel suo paese e poi appunto non doveva fare altro quindi io le ho messo l'invito l'ho detto guarda io vivo a tot minuti da qua andiamo in farmacia compriamo quella roba lì andiamo a fare il regalo per tuo fratello poi andiamo a comprare del cibo e poi andiamo a casa mia e beviamo un bicchiere un belino del tè stavo lì un po' e poi ti riporto indietro al tuo hotel però cioè non sono location queste cioè la farmacia di fare il regalo al fratello e tutte quelle varie minchiate che ci sono in mezzo non sono location ok? quindi se sono necessarie bene in questo caso erano necessarie nel tuo caso non era necessario portarla a fare il regalo cioè ti l'ha detto più volte che non gli frega un cazzo di fare quel regalo ok? quindi non mettere non nascondere le tue intenzioni porta in un'altra location hai già visto che ha perso un treno per te può rimanere con te non c'è nessun problema ha detto che fa cose stupide nella vita eccetera che le piace essere guidata quindi non farti problemi non nascondere le tue intenzioni non credere a queste stronzate qua del fatto che ti ha detto che aveva ancora solo un'ora cioè quello era un segnale positivo non era una cosa da interpretare in maniera negativa ok? grazie a tutti grazie a tutti